Collego un poco all'intervento di Gianni di prima perché prima Gianni ha parlato di una grande ondata di lotta e di vertenza sul territorio, su questo territorio e io sono stato molto contento di sentire e di approfondire la questione della lotta degli allevatori perché in questo territorio nell'ultimo mese si è rimesso in moto anche un grande movimento di lotta di un'altra vertenza che è la vertenza storica del movimento migranti e rifugiati a cui mi pare che un compagno, non conosco il nome, faceva riferimento prima alla storia del movimento migranti e rifugiati di Caserta e dell'area di Castelvolturno e di Napoli che si è rimesso in moto con due giorni di mobilitazione che hanno visto di nuovo invadere le piazze di Napoli e Caserta, due giorni consecutivi con una forza che non si vedeva da prima del covid stiamo parlando di due manifestazioni che hanno portato in piazza circa più di duemila persone ogni giorno in due giorni consecutivi che è una due giorni costruita arrivando fino dal Papa la settimana prima insomma una una mobilitazione che teneva però assieme quello che diceva Gianni secondo me il tema della vertenza e quindi c'era tutta la questione della richiesta sui diritti, sui permessi di soggiorno, sulla costruzione diciamo di una dinamica di lotta quotidiana con gli uffici, le varie prefetture, uffici di migrazione e contemporaneamente è stata una grande mobilitazione per la pace sicuramente la piazza più grande di Napoli e Caserta perché lo striscione che apriva queste migliaia di persone che sono scese in in strada era vogliamo la pace perché conosciamo la guerra era il movimento dei migranti rifugiati composto da persone che sono scappate dalla guerra che teneva assieme il tema dei diritti e quindi di un'accoglienza che noi chiamiamo il modello ucraino per tutti insomma perché il modello ucraino ci dimostra come l'accoglienza sia un'accoglienza facile da fare sono arrivate un numero di ucraino in Italia enorme eppure non 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 si è bloccato il paese nessuno diciamo nessuno sta sta in una situazione di di disagio e quindi da un lato la la vertenza sull'accoglienza sulla sulle tempistiche dei permessi di soggiorno e dall'altro il tema generale di una cultura di pace intesa come cultura di proprio di rivendicazione di diritti anche da parte di chi già sta qui e quindi questo questo movimento che storicamente ci insegna alcune cose secondo me utili nella discussione che facciamo qui perché eh si parlava prima del dei subalterni e del sud il sud da un punto di vista del movimento migranti rifugiati in Italia non ha avuto para para paragoni nel senso che i risultati che si sono ottenuti nell'area di caserta e nella nell'area campana sono stati risultati enormi nel corso di questi anni ed è per per questo che è stata importante questa prima mobilitazione a cui ne seguirà un'altra cioè a ottobre noi scenderemo di nuovo in piazza perché questa qui è andata bene si costruisce una dinamica di vertenza che deve essere però continua cioè la piazza deve essere continua e deve ottenere però dei risultati prima si parlava secondo me la l'insegnamento che ci consegna questo movimento è che si scende in piazza per chiedere un risultato concreto e che quindi la vertenza deve stare in una dinamica di lotta sempre perché se noi fossimo scesi in piazza senza ottenere nessun risultato semplicemente la piazza sarebbe stato un boomerang e secondo me questo è un po' quello che accade nelle nostre lotte che a volte sono delle lotte dove non si capisce cosa chiediamo e quindi dove non c'è un risultato di media durata e questo rischia di farci tornare indietro perché naturalmente una persona che scende in piazza non è detto che riscenda in piazza se non ottiene un risultato soprattutto nell'ambito delle di persone di persone a grande marginalità come la componente migrante e quindi c'è c'è il tema della lotta e della vertenza quindi lotta di di prospettiva ma vertenza nei contenuti eh nei contenuti immediati nelle rimedicazioni immediate che sono due cose che dobbiamo assolutamente rilanciare qui all'interno della discussione sul sud secondo me l'intervento di 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 Gianni l'ho uscito ancora una volta quando diceva che ci dobbiamo i movimenti si devono i movimenti si devono autorappresentare eh io credo che sia questa una cosa fondamentale perché uno dei problemi dei movimenti è che quando sono forti non vogliono avere a che fare con la politica poi quando viene a perdere si candidano cioè l'ultimo è eh questo è accaduto nell'ultimo periodo invece noi dobbiamo fare in modo che quando i movimenti sono forti si candidano e hanno la la forza di candidarsi mettendo anche eh diciamo da parte le 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 necessità della vertenza quotidiana perché altrimenti eh è avvenuto per esempio a noi con le regionali dove un movimento eh come quello lì la lista terra delle ultime regionali della campagna aveva al suo interno un elemento ambientalista uno storico una parte dello storico movimento ambientalista campano che però è in declino e si è candidato eh in un momento magari non favorevole meno male che lo ha fatto eh sia chiaro ben meno male che lo ha fatto però dobbiamo fare in modo di costruire di costruire pertenze che nel momento di massimo sviluppo come diceva Gianni poi hanno anche la capacità di mettersi in moto e di metterci la faccia. Grazie. Grazie Alessio.